Voi non avete nessuno in quota leggo? No, nessuno, non abbiamo partecipato alla spartizione. Tra l'altro io, Vittorio Felti, presidente della RAI, lo voterei immediatamente. E non lo dico per Capitazio Benevolenza, noi abbiamo indicato Felti anche come presidente della Repubblica, quindi sarebbe sicuramente una figura indipendente e terza. In quello che il presidente del Consiglio, un anno e mezzo fa, annunciava fuori partiti dalla RAI. Sì, lo ricordavamo, sì. È l'ennesimo blef, l'ennesima bugia, l'ennesima balla. Qui non siamo solo alla lottizzazione, qui siamo all'occupazione vera e propria. Renzi ci ficca ancora per l'ennesima volta i suoi amici. La novità qual è? Che anche il Movimento 5 Stelle partecipa al banchetto, si siede al tavolo e partecipa alla spartizione. Quindi lei dice, nonostante i proclami, le dichiarazioni, poi però... L'assurdità è che si vota con quella che era stata definita una legge liberticida, la legge Gasparri, che era la legge fatta. Mi pare era soddisfattissimo, mi pare per la quarta volta si vota ancora con quella legge.